Partirà a gennaio il progetto sicura che il Comune di Ravenna porterà avanti grazie alla collaborazione delle diverse chat di vicinato nate in questi anni. Sono quattro attualmente i gruppi che hanno aderito al progetto, un quinto potrebbe convogliare a breve. Non sono tutti, per questo le porte rimarranno aperte a chi vorrà appoggiare l'iniziativa in corso d'opera. D'ora in avanti, le segnalazioni girate dai cittadini ai gruppi di controllo di vicinato verranno anche convogliate alla piattaforma sicura grazie al lavoro dei 50 referenti che copriranno buona parte del territorio comunale. In questo modo la polizia locale potrà costruire un database per monitorare il livello di degrado e microcriminalità della città e del forese così da attuare migliori contromisure per prevenire il perdurare di furti, truffe o altri episodi che minano la sicurezza dei cittadini. Poco meno di 20.000 euro il costo totale del progetto che il Comune presenterà a Roma in un apposito convegno dedicato alla sicurezza. Contestualmente all'avvio della piattaforma sicura, le zone della città coperte dal servizio verranno segnalate con appositi cartelli. Lo scopo è quello di mappare, censire non solo la criminalità, per questa ci sono già strumenti previsti dal Ministero dell'Interno e che appartengono alla gestione delle forze di polizia. Noi, in maniera più coerente con i compiti che spettano un ente locale e una polizia locale, vogliamo intercettare quelli che sono i fenomeni di degrado, le segnalazioni non qualificate, tutte quelle situazioni che pur non assurgendo a notizie di reato, comunque costituiscono il segnale che prelude all'esistenza di attività illecite e che quindi consentirà di orientare l'attività sia della polizia locale e attraverso quello scambio informativo che le nuove norme sulla sicurezza urbana promuovono, scambiarle con le forze di polizia. Progetti analoghi ce ne sono tanti nel territorio, non abbiamo la pretesa di essere gli unici ad aver messo in campo una strategia del genere, abbiamo però l'orgoglio di essere gli unici ad aver pensato questo tipo di progetto e di aver inserito questo tipo di progetto anche nel patto per la sicurezza firmato il 30 giugno tra il sindaco di Ravenna e la prefettura di Ravenna, il prefetto di Ravenna, l'allora prefetto rosso. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di coinvolgere al massimo i cittadini nel farli partecipare al sistema della sicurezza, ovviamente non con un ruolo attivo, che è una prerogativa esclusiva delle forze dell'ordine, in primis le forze di polizia a competenza generale, ma di farli sentire partecipi di un controllo del territorio che va a integrare, a sostituire quello degli occhi elettronici. La telecamera è una delle richieste che vanno per la maggiore, io credo però che la telecamera migliore sia sempre l'occhio umano e la presenza sul territorio di cittadini attivi e fattivi che possono non solo raccogliere informazioni, ma dare degli elementi utili al sistema della sicurezza per intervenire con la massima tempestività, efficienza ed efficacia nei fenomeni di microcriminalità o anche di criminalità più consistente. Vi arrivano segnalazioni di furti, di auturbate, dopodiché qual è l'operazione che svolge la Polizia Municipale? Se si tratta di notizie di reato, soprattutto se tali reati sono in corso di compimento, l'attivazione deve riguardare ovviamente i numeri di emergenza, il numero unico europeo 112 in primis, da parte nostra ovviamente simili segnalazioni danno luogo a duplici attività, da un lato quelle investigative finalizzate alla repressione dei reati e dall'altra quella di organizzare e pianificare i servizi futuri per essere più coerenti con quella che è la domanda di sicurezza che ci proviene dai cittadini. Ci sono già quattro gruppi con circa 50 referenti che stanno già onorando e dando corpo a questo progetto. Come si diventa referenti? Referenti intanto si diventa se si viene scelti dal gruppo a cui si appartiene, non è certamente l'amministrazione comunale o un altro istituto o la polizia locale che sceglie i referenti. I referenti se li scelgono all'interno dei gruppi con i criteri che decidono loro nella loro autonomia e sicuramente a noi non interessa come vengono scelti, a noi interessa che il referente sia una persona che sa usare la piattaforma che gli viene messa a disposizione e che abbia la stima non solo delle istituzioni ma soprattutto del gruppo che lo ha nominato. Non sostituisce la denuncia a questo servizio? Esatto, questo è il principio zero di questo programma. La funzione è residuale nel senso che resta fermo, che ogni qualvolta un cittadino osserva un fatto criminale lo deve comunicare alle forze di polizia, alle forze dell'ordine attraverso i canali tradizionali.